Bello scam Eccoci Un bello scam come se deve Eccoci ragazzi Allora oggi E' stata una magnifica serata ragazzi Veramente mi sono divertito veramente tanto Su rp E adesso però Bando le ciance e mo' se lavora Finora ho fatto Si vabbè ho fatto un po' di roba però Adesso se lavora Ovvero Allora sandbox Prima faccio mando il video Di sandbox Il mini trailer Di sandbox mando Aspetta non è questo Non è questo Ma dovrebbe essere questo Non era qua Aspetta dov'era No era qua Ok Perfetto Via A tra poco Ragazzi Vuoi guadagnare soldi giocando? Oggi voglio parlarvi di The sandbox Un nuovo tipo di mondo virtuale E guidato dalla comunità in cui potete creare Condividere e monetizzare NFT tramite esperienze di gioco sulla blockchain di Ethereum The sandbox è partner di oltre 165 marchi Tra cui Adidas Snoop Dogg The Walking Dead E tanti altri The sandbox Di dare l'opportunità di guadagnare soldi tramite obiettivi all'interno del gioco Sfruttando i suoi popolari immobili virtuali che stanno conquistando il mondo NFT Chiamati land La land è un immobile virtuale come se fosse un pezzo di terra nella vita reale Affittarlo, noleggiarlo, rivenderlo a di più e ha un valore effettivo E poi volevo parlarvi dell'affa passa di sandbox Con questo passa avrai la possibilità di vincere fino a 3000 euro E potrai aumentare i tuoi guadagni raccogliendo NFT o risorse e scambiarli con altri giocatori Il gioco è completamente gratuito ragazzi Vi consiglio di provarlo Link in descrizione Ok Allora eccoci Eccoci qua Eccoci qua ragazzi Grazie mille Miseri nove mesi Auguri Un bacio enorme Buon compleanno Auguri Allora ragazzi Questo È la piattaforma Sandbox Che permette di Guadagnare giocando E creare giocando Come ha detto nel gioco Come ha detto nel Come ha detto anche nel trailer Però la cosa La particolarità di questo Di questo metaverso È che se vai sul sito Vabbè uno Basta fare punto scrammativo De sandbox Ragazzi Punto scrammativo De sandbox Ragazzi E vi appare il Vi appare il sito Per scaricare Basta cliccare qui Download alfa E uno scarica È un gioco tipo Minecraft Solo Tipo Minecraft Con una storia Con delle quest Dei dungeon Tipo RPG E Con dei Indovinelli No indovinelli Tipo Come si chiede C'è Tanti Come cazzo Gli pare Allora Non ho capito Scusate Ieri stava a 1.9 Vabbè Ieri costava Costava di più Ieri Oggi costa 1.7 Però Però Non ho capito Come mai Però ragazzi Ah ci stanno 1.500 persone Che hanno comprato L'alfa bass Perché con questo Alfa bass Che costa 1.800 dollari Potete vincere Potete Potete acquisire Con l'alfa bass È una sorta Di pass battaglia Di altri giochi Potete acquisire Fino a 1.000 send Fino a 1.000 send Ragazzi Fino a 1.000 send Dal valore Di Un send Costa tipo 3 dollari Buy send Su Andiamo a vedere Quanto costa oggi Oggi è risceso Un pochetto Ieri stava 3 dollari Oggi sta 3 dollari 134 Sempre 3 dollari Più o meno Che Dal valore Di 3.000 dollari Questo alfa bass Non solo Lo puoi comprare Ma lo puoi anche vincere Facendo le quest All'interno del gioco Se uno completa Le quest All'interno del gioco Ragazzi Acquisisce Ticket Raffa il ticket Tutte ste Cagate qua Tutte ste cose qua Semplicissimo Il gioco è semplicissimo Ragazzi Cioè il personaggio Questa qua Se tu clicchi qui su alfa C'hai tutta la mappa Inizi qua Sull'alfa lobby E poi ci sono i vari portali Che ti portano All'interno Delle varie Delle varie roba Della varie roba Oggi voglio provare La quest De De Snoop Dog Snoop Dog For play Voglio provarlo Voglio vedere 0 su 15 Quest completate Quindi andiamo Sulla lenda De Snoop Dog Vedete Poi La lenda Ragazzi Se può comprare Tramite il pulsante market Qui a sinistra Andate sotto Ci sta Lens Ovviamente C'hanno un costo elevato Però non è obbligatorio Comprarle Non è obbligatorio Comprarle Poi potete creare Se uno clicca sul tasto Create Può creare pure Le NFT Proprie Può fare Può vendere Può scambiare Può comprare Può fare di tutto Può fare E secondo me È il futuro È il futuro Dei giochi Però Ecco qua Siamo dentro Siamo dentro Il Il metaverso Adesso noi Abbiamo il personaggio Qua sotto Ci sta la chat Che uno può scrivere Insieme Dentro la chat Sta pure la chat Del metaverso Uno può scrivere Dove gli pare Può conoscere persone È una Una sorta di Una specie di Abbo Con le quest Ecco Come posso dirlo È una sorta di Una specie Però è molto più complesso È molto più figo Ecco Questo qua è La land di Snoop Dog Qua Uno basta che clicca qua E non va Pure ieri Era buggata E oggi pure Buggata GG Andiamo a vedere Che altro ci sta Andiamo a vedere Se ci sta Un'altra land Qua vicino Che cazzo Ne so C'è questo Dungeon of Dam Che ancora Non ho fatto Dungeon of Dam YZ Ci stanno 5 queste Sono come quelle 5 di ieri Porca puttana Mi fa Veste mia Cristo Ieri ci sono messo Tanto Ma no Ci ho messo Tanto Quando ci ho messo Ieri Non mi ricordo Ma ci ho messo Tanto perché Sono stupido Io Perché Sono io Coglione Che voglio Finire tutte Le queste Una per una Sì Infatti Dopo Dopo Gli lo chiedo Al manager Perché non va Se almeno Contattano Quelli Del sandbox Grande Mentre fai Le cose A risotto Grandissimo Mettiamo un po' Di musica Ragazzi Che dire Un po' Di musichetta Un po' Di musica Senza musica Veramente Un po' Spettacolo Bro Grande Ammo se deve Caricare Un attimo No A parte i scherzi Ragazzi Voi che cosa ne pensate Voi che avete visto Già De sandbox Cosa ne pensate Del metaverso Che ne pensate Del metaverso Ragazzi Infatti Lo sto Io sto guardando Mentre preparo Grande Gianni Io ho già mangiato Buonasera Calia Buonasera Sono riuscito Succede Il gioco Il gioco Il gioco Ufficiale Con giochi Ufficiali Anche giochi Più Complessi Tipo FPS Così All'interno De sandbox Oppure De altri Secondo me Sarà il futuro Il progetto È molto interessante Il progetto Il progetto È molto interessante Bisogna vedere Se riescono A A portarlo avanti Ma io credo Proprio che sì Perché comunque È sempre gratis Ragazzi È sempre un gioco Io sinceramente Lo proverei Ma anche Se mi metto un po' d'ansia Ma è un gioco ragazzi Alla fine È come se fosse un gioco È come se fosse un gioco L'unica differenza È che ci guadagni Ci guadagni Puoi comprare Spende Fa altra roba Puoi spendere Ci stanno i tornei Le cose Oh qua che è Perché non mi va Oh qua dentro Devi entrare su Oh Dai muovete Quale è questa Ieri l'ho fatta Eh perché C'ho avuto problemi C'ho avuto problemi No Quale è questa Sono messo abbastanza bene Quale è questa Sono messo abbastanza bene Beh oddio Ci sta Questa qua Che è lunghissima Dragula Gastal Penso che la farò per ultimo NFT Estidute Ci stanno tre questa Poi ci sta Way of Way to Xalia Che non è male Uno Due Tre Quattro Cinque Sei Sette Eh me ce le devo mettere Me ce le devo mettere Una volta me ce le metto Le faccio tutte Le faccio tutte 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 le faccio Tutte le faccio Hai già guadagnato qualcosa Al momento Non si guadagna niente Perché ci sta Il L'alfa pass Solo l'alfa pass Allora Se vedi questo qui Tu fai le quest E Prendi il ticket I ticket Praticamente Come funzionano i ticket Più ticket già hai Più aumenta la probabilità Che aumenta La chance No La chance di vincere L'alfa pass Tu puoi vincere Non so quanti Quanti alfa pass D'anno Quanti alfa pass D'anno Però ecco Più ticket ci sono Più ticket già hai Più la possibilità Già In più Cioè Mentre giochi Mentre giochi Fai La Fai la cosa Fai Cioè Sostanzialmente Sembra un gioco ragazzi Non è un Cioè Non è una roba Dove ci si guadagna Proprio Puoi anche creare Gli nft Non ho capito come Però ci si può creare Tramite programmi Cose Sì però Che cazzo Già due volte Che me Mi si aggrascia Io quasi 500 Grande Cuglia Cioè Il software Scaricato Da sito Mi sembra Lo voglio provare E fammi sapere Allora Com'è Dei ulaio Roblox Roblox Che cos'è Ah il programma Si chiama Roblox Ma solo da pc PC Ios Cioè Mac E PC Mac Windows Per il momento Poi Non escludo il fatto Che sia pure Da cellulare E da tablet Cioè il game maker Esatto Game maker No no È un gioco Ah non lo so Non lo so Oggi mi sa che c'è Tanta gente Ragazzi Talmente tanta gente C'è sta No ma da quello che so io È pieno Zeppo De gente Io quando l'ho provato In In anteprima mondiale C'ero solo io C'ero solo io ragazzi Ero l'unico C'era un pass speciale Che potevo entrare Potevo provare Tutti quanti i dungeon Infatti tutti quanti Ma non capisco È il lag Dovuto Cioè questo Questi scattini Sì è il lag Dovuti Al mio pc Che fa schifo Questo video È gentilmente offerto da Level up Una bevanda energetica Pensata per i gamer E di altissima qualità Povera di zuccheri Facile da preparare Apri lo shaker Acqua Metti un misurino Shaker E gusta A meno Di un euro A porzione Con il codice Sconto Pano Link in descrizione Raga Non tocco niente Tu dici potrebbe essere più interessante Inizio live Apolloni Sì E poi mi ha scritto Uno in chat E dopo sono venuto In chat mia A dire Ma no Non puoi giocarlo Non puoi giocarlo No L'embargo è domani Non puoi Ma io che cazzo Ne so io Che cazzo Ne so Ah ecco Non dovevo toccare niente Ok Allora devo cercare Un Un robo Che si chiama Un dungeon Che si chiama Non mi ricordo come Non stai bene Non mi ricordo Dungeon of dumb YZ Dungeon of dumb Dungeon of dumb Dungeon of dumb Dungeon E doveazzo sta Eccolo Perfetto Andiamo a vedere com'è sto dungeon Vai No 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 È gratuito ragazzi Gratis Gratuito Basta fare Punto esclamativo The sandbox Il gioco è gratis Poi se uno vuole Comprare Vendere Creare Quello Non so come funziona Per comprare Sicuramente Ci vorrà pagare Sorti Veri Ci vorrà pagare Sorti veri Però se uno vuole Semplicemente Aspettate Ok questa qua È una quest Un gioco è gratis Ragazzi Io sto giocando Gratutamente Comunque Poi io l'ho detto Io non Non ci spenderei Io personalmente Perché Certo C'hanno un costo Troppo elevato Secondo me Ci stanno Delle nft Che costano Veramente Cioè Troppo Secondo me Che cazzo è qua Porca Niente Non mi ci fanno Che te Devo ammazzare Così Ecco qua Dopo ci stanno pure Andiamo a vedere qua Ah qua c'è Tipo la spada Eccola Qua c'è la spada Ecco Che lo devo ammazzare qua Allora Io quello che devo fa Qui adesso è Ok Devo attivare la leva Ok C'è una leva qua Che devo attivare Perfetto Oddio 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 E lo so che è ingorretto Che cazzo è qua Che devo fa Oh la madonna Fuck Cioè Aspetta eh Non ho capito Allora Want a Combination now Yes Enter the Fist digit Cioè O canzi vedono i numeri Scusami Eh perché Mi sa che è ancora Mi sa che devo Andavanti Dopo Devo fare Ecco per esempio Questa qua È un NFT Ragazzi Se uno clicca qua Vede in marketplace Ci stanno Ci stanno C'è questa roba qua Che al momento Questa qua Non è stata venduta Ancora O forse sì 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 È stata venduta A 6 Ethereum 6 Ethereum Quattro mesi fa Raga Sarà tipo 20.000 euro È una delle prime Queste ma Penso che sia Buggata Eh allora Niente Cazzo Arrivo Mo' vediamo Cazzo è qua I spinati Porco di avro Sì è difficile qua Vabbè qua Non credo che sia Al momento Al momento Non credo che sia Una cosa Ecco Sti dungeon Da quello che ho capito io Uno li può pure creare Cioè uno può creare Anche il proprio dungeon Può creare Lo può creare Lo può Da quello che ho capito Ovvio Ci vogliono i sordi Tanti sordi Però uno volendo Può fare tutto L'unica cosa Che gli manca È la creatività Sai chi è qua È bella Ah C'ha detto? Eh ma qua è Gesù Cristo Ah qua aspetta Uso Ah hai capito Ho capito Ho capito Ho capito Come funziona Qua devo bloccarli Al centro Ne porco Ok Ce la dovrei Fa così Ok Ok Oh Qua che ci sta? No niente Questa chi è qua? Abba goblin Urco diavolo Mi ha chiappato No mi ha fatto male No mi ha fatto male Fermate Fermate Tutta questa lava Urco diavola Che cazzo volete a me? Oh Mori Mori Che al momento Questi qua sono a livello 1 No? E le quest sono facili Poi dopo non ho capito Se Quando uscirà il gioco ufficiale Se ci saranno vari livelli Ma penso che si Vari livelli Con una storia dietro Macchiati Eh non lo so Ma che sto sincero? Non lo so Non lo so Non ne ho idea Sotto che ci sta? Ah non ci sta un cazzo qua sotto E allora che cazzo serve qua sotto? Cioè solo per fate Solo per fate perdere tempo qua sotto Ah Ah Che da qua? Oh porca puttana No aspetta Mi ha fatto la trappola La trappoluna La trappoluna Innaggia E come cazzo faccio a mondare là sopra? Orco noni Oh chi è qui su? Oh testa di cazzo Ma te l'hai mai detto a nessuno Che devi inna Fangulo Ok così ce la dovrei fa' No Oh Cazzo Puttana Vieni vieni Merca puttana Oh ma non è facile Ok così ce la dovrei fa' Zit Stragit 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 Ok Sì ma è difficile Non penso di riuscirci Ancora un po' Ma sto scemo io? Vai a sinistra prima A sinistra Cioè Ti devo andare in bagno Porco Vaffanculo Ma ce la dovrei fa' Qua Stragit 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 La dovuta la madonna Porca troia Sì sì lo so Ma io stavo a correre Cioè io stavo correndo In quel momento Sì ma non ce la fa' Non ce la fa' Non gliela fa' Vedi Cioè Devo andare in bagno Cazzo Allora vado in bagno Raga Arrivo subito Oddio Vado in bagno Allora vado in bagno Sì 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 Allora, qua Dai Troppo poco Ok, così dovrebbe Dovrei farcela così Sì, col cazzo Non ne la faccio, non ne la faccio Ma è impossibile Ok Così è perfetto proprio Così è perfetto Guarda, guarda, guarda Così è perfetto Fuck Fuck Urghtiavola Ma chi deve su? Ma perché me l'ha bloccato? Ho il testa di cazzo Ah, devo fargli la mossa Per togliergli lo scudo Ecco, mo' che gli sono tolto lo scudo Tengo premuto Gli levo lo scudo E questo qua se ne va A fanculo Via, 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 via Io, io, io Ammazza tutti Ammazza tutti Io, io, vai Ah, cazzo Non ti fa spostare dietro Perfetto, vai Andiamo avanti Via Via Ok Non ho capito Allora, qua prendiamo tutte quante le monete Qua Quello che ci dice Qua che cazzo è qua dentro? Qui ci sta qua? Sì Qua Questo video è gentilmente offerto da Level up Una bevanda energetica Pensata per i gamer E di altissima qualità Povera di zuccheri Facile da preparare Apri lo shaker Acqua Metti un misurino Shaker E gusta A meno Di un euro a porzione Con il codice sconto Buono Link in descrizione Raga Vedi bocame se Vi tocca a tornare da capo qua No, 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 no Quel cazzo che ci va Dalla Poi ci ho tornato a capo Non so che ci sta qui Bah Mondo Mondo nuovo qui Io qua già Sono venuto però No Allora come gioco Carino ci sta Madonna Ancora Guarda quello là sotto Quello come cazzo lo batte quello Quello là come lo batte quello Ok Voxley the shard Ah già l'ho completata Questa che è qua A che serve Qualcosa serve Non penso che non abbia Nessun tipo Oh cazzo Questa te l'ha sposta sopra Non ho capito Orca Uh livello 4 Masina roccia No Ah Ma questo come cazzo lo batte questo Ma lo devo batte a mano Ma è tipo il boss Non ho capito Meringoro Non ho Sti cornudi Ho capito Ho capito Che serve Quello Ah ste levi Dove forse tutti e due insieme Succede qualcosa GG GG Perfetto vai Grazie signor Open Va vedi Bronze Bronze Il mito bronze Andiamo sotto a mazzaquilli Eh vaffanculo Oh dio E tu Tipo ste cose Dopo le puoi creare Pure dopo Le puoi creare Le puoi creare pure dopo Le puoi fare Ok Vabbè Andiamo sotto a mazzaquilli Vieni stronzi Ovviamente Ovviamente gli fai più danni Ok La cassa La cassa dove? Quale? Ah c'era una cassa C'era Porca troia Ok Grazie raga Eh pure qua Stava una cassa Vaffanculo Fortuna si può rispammare Perché se no Qua bestemmiamo Fino a domattina Oh cazzo Ma dove devo andare qua? E' di stronzo Torno indietro A sinistra Dove cadevi all'inizio Ah si? Ok Oh uno scudo Quindi c'era uno scudo Bravo Vai Vabbè Vabbè che si qua Non posso Non posso Tipo ucciderlo Questo Che succede se lo uccidono? Non penso che gli fa male Non penso che gli fa male Se lo ammazzo questo Ah vabbè Vaffanculo Ammazzo dopo Qua sotto Stava una cassa Qua sotto La cassa Che non ho vista Qua sotto A sinistra Sopra Ok Magari non l'ho vista io Ah questa? E' vero Oh già avete ragione E' vero E' vero E' vero E' vero E' vero Ma cazzo Già arrivi però Ah Porca Eh mi sa Che devo Andarmi proprio Devo fare proprio Un salto Proprio De quelli precisi Devo fare un salto Preciso Alexi E ci E ci Ciao bello Dall'altra parte Da qua Si entra Dici che è da qua Ah No 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 Da qua no Ci sta un passaggio Qua sopra Tipo Sta in modo Per entrare qua sopra Che cazzo è qua Oh si Ok No 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 E' finito qua Ehm Ma non lo so mica Non lo so mica se è come dico io Ah vaffanculo Come cazzo ci arrivo là dietro ragazzi Sul ponte Qua voi dite che non ci arrivo qua Ehm forse è lì Ah ho capito vaffanculo Forse è da qua Madonna che coglione Oh Bronze world Questa è forte Una figata Io qua Ragazzi Andiamo qua dentro Andiamo a vedere qua Ah Altre cose qua Altre box elite Qua dentro che ci sta? Che è questo? 500 mila euro No 30 mila Corcazza questo trucombolo Quanto costa Dio padre Allora Era ora Ok Andiamo a vedere quante queste mi sono rimaste 5 queste 5 queste 2 queste mi mancano 2 queste Quali sono le queste che mi mancano? Open all chest Ok Me manca Vabbè Me manca La chest Me manca Una chest Me manca Una chest Che non solo sta Vai alla chest Colori Ma la chest Colori Non Non riesco a capire Come si fa Perché non Non c'è Ci vado Ma Addirittura Due queste Mancano Cioè Devo trovare le due casse Magari c'è qualcosa Che mi sono scordato No questa è la sorpresa qua Oh io qua ce vado ma Qual è? Il codice Buggato Cioè È buggato raga E ditiamo Ma come fate Cioè Come avete fatto a sapere Questo voglio capire Allora 3 1 2 1 2 E come avete fatto a sapere Perché è buggato E ora le altre geste Dove stanno Qua che è? Qua Aspetta Ma io qua non ci sono mai passato qua Così Boh Sì sì Io qua ci sono passato Ah qua dentro Cazzo E come cazzo L'apro qua? Ho una chiave Una chiave Mi serve Una chiave C'è una chiave Sullo tavolo Infatti Stavo a pensare io Una chiave Sullo tavolo Ma dove? Ragazzi Io mi sono perso Tutta sta roba Ah è vero Ok Infatti io lo dicevo io qua Che mi sono perso qualcosa Grab Cazzo è Oh no che fantasia Ok Questa l'ho fatta Ho preso Ok Però mo Mi manca Mi manca una cesta Mi manca Una Secondo me sta tipo all'inizio Qualcosa che tipo Non ho visto Perché andavo troppo veloce Anche se Mi sembra strano Però Qua dietro Che ci sta Qua dietro Mi stancazzo Ah eccola Perfetto Tutte le geste prese GG Manny Tutte le geste fatte Quindi lo fate Tutte le queste Sì che fado Vado al contrario Sì Grande Mateo Grandissimo Fine Sì sì no Non ci sta C'erano i mostri No Mi piacerebbe ammazzare i mostri La Quelli la non ti danno niente Se ammazzi i mostri Non ti danno niente Se ammazzi i mostri Puoi guittare Sì sì lo so Che posso guittare Però Volevo capire Se te dai Sì domatina Porco Io non so Fa Parkour Cazzo Parkour Io non lo so Fa Ok Ok Ma qua dentro che cazzo è lì Ah non è niente Ok Qua sotto questi Beh male non gli fa Se l'immazzo Male non gli fa Secondo me Se l'immazzo Ok Questo video è gentilmente offerto da Level Up Una bevanda energetica Pensata per i gamer E di altissima qualità Povera di zuccheri Facile da preparare Apri lo shaker Acqua Metti un misurino Shaker E gusta A meno Di un euro A porzione Con il codice sconto Bano Link in descrizione Raga E vaffanculo Non serve un cazzo Però So che non serve a niente Però So che non serve un cazzo Però Parkour Is new No come si dice Non si dice Parkour Parkour I porchi I porchi Parkour Parkour Come cazzo Si dice Io fine Fine Finito Finito Tutto il resto Serve solo per Per bellezza Vai Finito tutto Regis Easy Beh easy Mica dando Guardando le queste Sono fatto tutto GG Buona Buona Cascato Di sotto Borca No ma Vabbè Ma ce l'ha Un senso ce l'ha Sticchio dei bubi Ce l'ha Ce l'ha Un senso ce l'ha So come tante opere artistiche Allora pure Che ne so pure Caravaggio Picasso Addirittura pure Picasso Cioè Certo non è la stessa cosa De Picasso Però Cioè ci stanno tante cose Che Tante opere Che uno Le guarda Dice Ma che cazzo Grazie mille Maraio 022 Grazie mille Bellissimo Allora bellissimi Per oggi Quando le persone Tirano schizzi e vernice E la considerano arte Oggi Esatto Cioè Ci stanno persone Che veramente Tirano schizzi là E dicono No considerano E' arte E' arte E' arte L'arte non già ha un vero Proprio significato Qua che Sto curioso Vedete che cazzo è Missing parts Facciamo altre queste Ragazzi Che mi piace Divertente Non è male Anche se devo andare a dormire Devo andare a dormire E non solo Io domani Devo tornare a casa Quando torno a casa Devo Devo attaccare la live A mezzanotte L'una Quando è E devo fare Altra roba Perché mi si è rotto Il computer Per una settimana Non ho potuto fare Sandbox E Mo Lo devo recuperare Cazzo 20 live al mese Devo fare 20 live al mese Raga E' tosto Perché Per il momento Ne ho fatte 10 10 Me ne mancano Altre 10 Cazzo Altra 10 E' figo E' una figata assurda Però Se Tipo Dal sito web Puoi entrare direttamente Nei dungeon Dal sito web Veramente Non devi avere il computer Come Qua dentro Play Ma veramente Cazzo Non lo sapevo Questa era decima Sì Mancano altre 10 live Infatti C'ho Sto al 18 Del mese Porca puttana Sto al 18 Del mese Infatti L'ho detto Io l'ho detto Almeno L'ho detto Speriamo Incrociamo le dita Speriamo che Non mi si rompi Il computer Guarda caso Quando gliel'ho scritto Ragazzi Dopo 3 giorni Si è rotto Figo Questo è Snoop Dog Quindi Take your home Figo Bello 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 Io non so voi Raga Ma a me piace Sta roba Tutti i personaggi Famosi Quest Snoop Told me Entra In the house Quindi Bisogna entrare Dentro Dentro l'house Insomma Ci stanno Un sacco Di queste Stanno Ma domani Appena torno a casa Le facciamo Eh domani Non lo so A che ora torno Devo andare Prima da Pure da bingo Devo andare Però da bingo Prendo da sport Devo prendere Da sport Ragazzi Sta nella Marietta Raul Raul Chi era Mi pare Che è uno Famoso Non mi ricordo Putin Che ha detto Putin Chi Ah Putin Putin Vaffan Gulo In Iamount Cioè Avevo letto Putin Iamount Wait Vai GG Grazie Mia Mia E questa è tutta roba Che credo Che abbia Comprato Tutta roba Che ha comprato Ma questa è la casa Proprio De Snoop Dog Vero e propria Non credo Poi ci sta Una marea De Uh Ehi Una marea De roba ci sta Come se esce Ecco fuori Anzi esce E' Interacto Uffa io non ci sto Ci dobbiamo organizzare Per Praga Cioè Alli Non ho capito Praga Che c'è scritto qua Idemblond Che è Quando costa Sono dove Stugato Sto per Artistica qua Che Secondo me Secondo il mio modesto E' pure figa Non è male 18.000 doll Circa 15.000 euro Io Onestamente Non lo so Se la comprerai mai Cioè Voi spendereste mai 15.000 euro Per un quadro Qua le scimmie Le scimmie costano Un botto Costano Le scimmie di solito Costano tanto E' uguale Sei Ethereum Almeno un euro Una madonna Ti ricordi che Mo' vivo a Praga Da posso ospitare Con te Gaia Ah è vero 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 Me l'avevi detto Go back to Carla Finto dei Dinosaur Bonus Eh ma questi Non me li voglio Spoilerà Non me li voglio Spoilerà Per oggi Vanno come lag Addio Fermate Fermate Mi giro la testa Allora Ritorniamo al lab Tanto queste poi Dopo le faremo domani Vediamo Nemmeno un euro Come gioco è figo A livello di gioco Di gameplay Non lo so perché Non l'ho ancora provato Il gameplay Vero e proprio Che Noi abbiamo visto Un dungeon I piccoli dungeon Voi immaginate Se invece Dei dungeon Ci sono proprio Dei giochi Veri e propri Dei giochi Uno contro uno Tipo Il cazzo Ne so Anche Come si chiamava Quello Quella serie De Netflix Non mi ricordo Che sta roba È The Sandbox È il metaverso Di The Sandbox È ancora in alfa Squirt game Esatto Squid game No squirt Squid Quanto stiamo Noi per Per le quest Vedete Siamo Al 8 su 30 And the ticket A livello 3 Tipo questo qua The Fung Guys Kingdom Va bene O tramite sito Tu vai sul sito Clicchi Fai Play funziona ma te ma che cazzo fai è una sponsor ragazzi c'è scritto pure nel titolo hashtag adv sono tre ma dura un botto allora la faccio un'altra volta ma è giusto per vedere com'è la cosa dei dei snoop dogg non è male questa mo' voglio vedere un attimo che roba è ma giusto per curiosità ma si guadagna facendo sta roba in teoria si in pratica devi vincere i ticket devi vincere l'alfa pass facendo le quest ti dà la possibilità se tu fai tutte le quest più queste fai più più fai le quest e più puoi vincere l'alfa pass con l'alfa pass puoi vincere i send con l'alfa pass ottieni i send fino a 1000 send 1000 send l'ho detto prima che se uno va qua e arriva a comprare costa 3 dollari a send quindi sono 3000 dollari però non è solo non è l'unico modo per lo puoi anche comprare l'alfa pass poi ci sta il modo qua per creare puoi creare la roba rivenderla e se ci sta gente che sta la compra ma come progetto è interessante tutto sta a vedere come si evolve potrebbe schizzare stelle come potrebbe tornare però a quanto pare il mondo del metaverso destra roba qua insomma hanno un futuro ok qua ho preso tutte le quest questa è un'altra persona dovrebbe essere quella ah qua si passa così quanto costa un fungo di questo ragazzi secondo voi quanto costa ancora non è stato venduto gabri gamer avrà shoppato un pochetto questa vabbè ce l'aveva un paio di cose fighe un pochetto ha già shoppato secondo me ma dopo ci stanno pure gli eventi dopo ci stanno tipo gli eventi tipo non so se ci avete presente su fortnite no tipo fortnite pure ha fatto una sorta del metaverso con quando fai gli eventi che tutti quanti si ballano tutti insieme ecco lo stesso lo stesso principio c'è la the sandbox dove faranno pure eventi cose questo video è gentilmente offerto da level up una bevanda energetica pensata per i gamer e di altissima qualità povera di zuccheri facile da preparare apri lo shaker acqua metti un misurino shaker a meno di un euro a porzione con il codice sconto buono link in descrizione raga che ci sta qua dentro ma dopo ci stanno pure i draghi ho visto che ci stanno tipo le cavalcature i draghi poi volà poi fa cioè ok c'è tanta roba che io onestamente non capisco perché non ma è enorme sta mappa ma è enorme enorme cazzo oh cazzo follow ok il problema è l'ultimo andare sopra cioè non capisco come andare sopra che qua fino a che si tratta di andare da qua questa qua la faccio subito easy qua cioè è sopra il fatto il problema è andare sopra come cazzo ci vai sopra sotto si passa c'è un sottopassaggio qua oh sono sti piselli qua che cazzo è qua oh cazzo no non mi dico che mi sono bloccato che amore non riesco più andavanti eh me sa no non penso non penso beh e invece vaffanculo tocca tornare indietro che ci sta sotto non capisco boh vabbè niente mi tocca a salire oh buono e questo lo fate tutto mo no me manca cazzo cazzo mi manca la sopra e come cazzo ci vai la sopra qua qua sopra ma in teoria dovrebbe essere abbastanza easy se passo per da qua eccolo qua per regiso oh già fatti tutti dura un botto gita ma lo fate tutte questa questa qua dura un botto gita tutte lo fate chi è che diceva che durava un botto vloggerata perché adesso ci metto sempre un botto di tempo per fare queste queste invece le sono fatte in tipo in 5 secondi devi parlare con quello allo start per altre ma scusa ma qua mi dice che lo fate tutte the fun guys kingdom 3 su 3 oh magari mi sbaglio io eh allora domani vediamo queste qua queste due qua queste due qua e poi no questa qua ci metto un botto dragula castle ragazzi ci metto un botto di tempo dragula castle qual è quella che avevo fatto io un tempo con con i gorilla no quella che cazzo era un'altra mappa era dragula castle dovrebbe essere enorme 34 quest no non investo in crypto io ragazzi le quest in cosa consistono e te lo dice se tu le fai ma le quest praticamente tu fai la quest e poi te danno una volta completata la quest fai aspetta un attimo fammi vedere dragula quest io questa qua eh ma come ma io non so in dragula quest ah ok launching io la dragula è impossibile fidati allora a me hanno detto il manager mi ha detto che ci ha messo due ore no tre ore buone tre ore piene per farlo a che ore stacco tra poco tra pochissimo bellissimo tra pochissimo io quasi 4 e mo vediamo nonna che stiamo in transilbagna veramente qua che cazzo è questo chi è chapter 1 che cazzo è che madonna è cazzo io questa non la sono mai fatta dragula castor cazzo sono proprio curioso capito cioè mi viene mi viene proprio la curiosità di vedere quello che cazzo è qua ma io qua che cazzo gli devo dire questo non lo so io qua non so come cazzo si passa qua ma ci sta tipo una via una via diversa da sotto come cazzo ci passo io sotto qua sopra non capisco oh se non capisco non capisco mi spiace ma non lo capisco penso che sia qua così ecco no è impossibile al momento non voglio finirla quindi non me ne frega un cazzo stacco ok per oggi è tutto ragazzi per oggi è tutto tre mine sulla forza voglio fare voglio fare nel sesso nel metaverso nella realtà mi va male porca troia allora perché non vai su gtrp per lo mio fa sesso a scopare la madonna la se scopa come non mai ti fai un bel personaggio bello serio una bella voce ti nascondi dietro il personaggio e scopi come un animale buonanotte maiser ciao bello un bacio enorme buonanotte allora ragazzi per oggi è tutto spero che la live vi sia piaciuta del metaverso e anche quella della gtrp bellissimi noi ci vediamo domani noi ci vediamo domani sera domani pomeriggio verso le tanto alle 3 devo partire quindi ci vediamo alle 3 domani io vado a prepararmi mi preparo mi faccio tutta quando una doccia mi preparo per domani così almeno domani mi sveglio e so pronto carico a manetta per andare a far per andare a parlare dal cerbero ragazzi da Matteo che è tutto vi auguro una buonanotte ciao a tutti ciao bellissimi ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti